Buonasera cari amici, benvenuti a quest'altra puntata di Dopocena, siamo qui come sempre tra i nostri divani rossi per parlare di diversi argomenti. L'argomento di questa puntata è un argomento che sta un po' a cuore a tutti quanti, ovvero parliamo della casa, di quello che è naturalmente l'ambiente di casa che viviamo ogni giorno, di come si può rendere questo ambiente il più confortevole possibile attraverso tante tecnologie che sono presenti nella nostra casa. Naturalmente per fare sì che questo abbia il massimo della resa dobbiamo rivolgersi a professionisti che curano questi aspetti nel modo più professionale e altamente tecnologico possibile. Questa sera abbiamo nei nostri divani un'azienda che si occupa, un'azienda fanese che si occupa appunto di questo, si chiama la Air System e il suo titolare o uno dei titolari perlomeno è qui con noi, Diego Zeppa. Buonasera, benvenuto Diego. Buonasera. Insomma, si sta comodi nel divano? Sì, comodo, per me è la prima volta. Ecco, vabbè, però si sta comodi come nelle case di cui tu ti occupi. Certo, oltre alla comodità del divano io cerco di curare anche la comodità ambientale. Il comfort. Perciò il comfort dell'ambiente. Va bene, l'importante è che ti trovi a tuo agio, insomma, come tu fai a trovare a tuo agio poi dopo il tuo passaggio, il vostro passaggio, gli abitanti della casa, insomma, qui ti trovi bene. Esattamente, sì, sì. Va bene. Allora, Diego ci farà capire qual è, insomma, la sua azienda, di che cosa si occupa e soprattutto quali sono le tecnologie di cui noi possiamo usufruire grazie al suo lavoro. È un professionista, è un professionista che vanta tanti anni di esperienza sul campo e ha intrapreso un bel discorso. Allora, perché hai intrapreso questo discorso? Perché ti sta a cuore non solo il business, ma anche ti piace che a Fano ci sia un'azienda come la tua. Esattamente, un'azienda che non appare solo come tante aziende che sono sul web o su internet, ma che c'è anche un po' di sostanza. Finora siamo stati sempre dietro le quinte lavorando e adesso volevamo prendere l'occasione di riuscire a farci conoscere. Ampliare un po' i vari clienti, le clientela. Esatto. Qual è la tua esperienza? Come sei arrivato a questo punto? Perché ho detto in apertura sono tanti anni che tu ti occupi di questa cosa. Allora, intanto mi presento, sono Zeppa Diego, ho 37 anni a febbraio, sono 20 anni che faccio questo mestiere. Eh, però... Perciò l'ho sempre fatto a Fano, per tanto tempo in una grande azienda di Fano. Poi ho deciso di staccarmi, di provare questa avventura da solo. Da solo. Esattamente. E abbiamo cominciato insieme a Cristian, che è con me da 10 anni, e piano piano ho crescendo... Che è l'altro tuo... Esatto, sì. Essendo molto curioso, sono andato avanti, mi sono approcciato alle energie rinnovabili termiche. Perciò tutto quello che riguarda il risparmio energetico per la parte termica. Dunque, in questi 20 anni ho cominciato dal cantiere, poi mi sono praticamente spostato un po' più sulla zona ufficio, e adesso sono l'amministratore unico di Air System. Ah, ecco. E quindi, insomma... Insomma, un po' di strada l'ho fatta, con i giusti passi, piano piano, sempre sulla zona nostra e curando il nostro territorio. Quindi, insomma, hai un bel bagaglio di esperienze, soprattutto le hai viste un po' tu. Le ho viste un po' tu, ho fatto tutta la gavetta. Sono partito da, come si diceva una volta, il boccia, perciò a 16 anni. E piano piano, fino ad arrivare a questo punto, che Air System è un'aziendina abbastanza solida, siamo in nove persone, a breve dieci, perciò siamo divisi sia in assistenza che in impiantistica. L'azienda, insomma, può essere che siamo tante persone, però siamo distribuite bene, cioè servono tutte, perché facciamo, ripeto, assistenza, impianti civili, perciò andiamo dalla piccola ristrutturazione di appartamenti, andiamo fino a impianti un po' più importanti come appartamenti, come palazzine, palazzino terziario, fino anche a, praticamente, centri commerciali o lavori un po' più complessi, ospedali, facciamo un po' tutto quello che riguarda la parte termica, stando attenti al comfort e al risparmio energetico. Allora, è un'azienda che sicuramente, oltre all'esperienza personale di Diego, vanta anche, insomma, un numero di persone, possiamo dire, per i giorni che corrono, importante, perché dieci persone e il titolare, insomma, è un'azienda che già incomincia ad avere una struttura e una certa corposità, quindi, insomma, si può dire che siete una media piccola azienda. Esattamente, e io sono quasi, tra virgolette, il più giovane come esperienza, perché abbiamo nel nostro team delle persone con 35-40 anni di esperienza, erano delle persone che hanno insegnato a me il lavoro, poi, causa crisi, e io, a me ma porto fortuna, perché sono riuscito a prenderle con me e è diventata più che un'azienda, una bella famiglia allargata, perché ci fidiamo l'uno dell'altro e abbiamo degli ottimi risultati. Ecco, avete visto, tanta esperienza, poi la vita porta sempre, insomma, ad aprire nuovi scenari, nuove opportunità, insomma, lui praticamente adesso ha incamerato quelle che era tutto il know-how, tutta l'esperienza di persone che hanno lavorato su Fano per 30 anni, quindi, insomma, sicuramente hanno visto come te un po' di tutto e sanno affrontare qualsiasi tipologia di lavoro. Questo è importante perché dobbiamo, come sempre dico, anche quando trattiamo altri generi merciologici, altri settori, rivolgiamoci sempre a personale che vanta un curriculum di tutto rispetto e soprattutto che sia, insomma, a norma, che tutte le cose siano in regola, che siano dei professionisti veri e propri. Perché, come dicevi tu prima, insomma, in giro nel web si trova di tutto e di più, insomma... Molta apparenza. Molta apparenza. Invece tu al rapporto col cliente tieni in modo particolare li coccoli, diciamo così. Sì, infatti basta pensare che la sede è in via Fraghetto a Fano, c'è zona ex zuccherificio, non mi sono allontanato. Fano, Fano, perciò tutto il team, siamo tutte persone di Fano e poi l'ufficio mio è sempre a disposizione sia del privato che del tecnico per cercare di aiutarlo nelle decisioni, perché le decisioni non sono una sola. Cioè la decisione è una, ma le soluzioni sono tante. Sono tante. Allora, visto che abbiamo fatto questa bella infarinatura dell'azienda, adesso vi facciamo vedere una piccola clip che raduna un po' alcuni concetti che poi svilupperemo nel corso di questa puntata. Guardiamole e poi ritorniamo insieme qui, sempre sui divani rossi. Earth System è un'azienda termica di professionisti dedicati alla realizzazione di impianti termici e sistemi di climatizzazione per qualsiasi ambiente. dalla tua abitazione al tuo ambiente di lavoro Conosciamo tantissime tecnologie innovative in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza di comfort e benessere termico. Dal raffrescamento estivo a riscaldamento invernale. Gli impianti termici che ti proponiamo sono sempre allevatissime efficienze energetiche e quindi a regimi di consumo veramente bassi. Earth System, il cambiamento dell'azienda termica. Ecco qua, questo era così il video di presentazione un po' che magari anche online chi ci sta guardando lo potrà rivedere così insomma avete visto un po' alcuni aspetti chiaramente sono soltanto così o un passante, un volante. Quindi un'azienda non solo strutturata bene diciamo però anche in evoluzione voi mirate a ultimamente anche sviluppare il vostro il vostro business. Stiamo tanto come azienda siamo certificati ISO 9001, SOA, F-Gas stiamo cercando anche dei tecnici per ampliare l'organico perché c'è la crisi ma bisogna affrontarla di petto perciò le persone fanno un'azienda perciò sto cercando del personale che ci aiuti ad affrontare meglio il 2017. Siamo anche su Facebook su Twitter perciò come azienda termica cerchiamo di usare la tecnologia che è oggi a disposizione. perciò ecco perché sono qua questa sera perché la TV e Fano TV può essere un bel una bella presentazione per la mia azienda e perciò ripeto siamo un'aziendina con tutto il posto giusto in crescita in crescita in evoluzione in evoluzione solida perché ci tengo molto alla solidità le certificazioni sono importanti perché giustamente sono una sorta di agreement per dire noi siamo a posto abbiamo tutte le carte in rego esattamente ma oltre a questo le certificazioni sono importanti per certi tipi di lavoro molte aziende non ci crede più perché adesso questo non voglio fare un po' di polemica ma non ci credono perché arrivano aziende fuori del territorio che con qualche certificazione si portano via i lavori e ci portano via anche l'utile e quello che rimane però ho voluto prendere questa strada perché penso che il lavoro ripartirà perciò per dare sicurezza bisogna che un'azienda è certificata è certificata anche se non porta i risultati economici ma deve essere certificata perciò ho investito dal primo anno che ho aperto su questo su questo bene avete capito un po' anche dalle parole di Diego qual è la filosofia che sta alla base di questa azienda come lui si muove come titolare insomma quindi qual è la sua prospettiva è un imprenditore vero e proprio lui cerca di guardare un po' più avanti e non soltanto al momento quindi giustamente la crisi va aggredita se c'è anche in maniera propositiva investendo e questo è il percorso questo la dice lunga anche sul fatto che un'azienda come insomma per muoversi in questo modo deve essere un'azienda sana solida quindi certamente un'azienda che ha tutto a posto e quindi insomma dalle certificazioni anche alla solidità insomma quindi questa è una garanzia per chi viene da te sì basta pensare che spesso e volentieri non è scritto ma anche il pagamento dei lavori che faccio spesso e volentieri vado dopo aver fatto il lavoro ho comprato il lavoro al 95% o anche il 100% perché mi fido molto di quello che fanno i miei ragazzi e di quello che andiamo a installare perciò anche questo non è una garanzia scritta ma i clienti si accorgono perché vedono che il pagamento tutto alla fine e quindi insomma non è cosa da poco non è cosa da poco mi fido molto dei miei impianti e dei miei ragazzi perciò bene allora chi sono i tuoi clienti cioè chi può venire da te e chi viene e chi è venuto soprattutto da te allora i miei clienti Air System fa impianti termici a 360 gradi perciò è aperta a tutti è aperta ai privati è aperta agli enti è aperta al pubblico ma soprattutto sono molto attente al privato perché il privato deve essere instradato le nuove tecnologie fanno paura al privato perciò quello che voglio trasmettere io è che se viene in Air System posso dargli quella tutela nel scegliere la miglior cosa al miglior prezzo perciò il privato è la cosa che mi sta più a cuore poi praticamente il nostro ventaglio è aperto un pochino a tutti arrivano capitolati da studi di progettazione arriva magari il costruttore edile che ci chiede una mano per per finire il lavoro e per iniziarli qualche idea arriva qualche associazione per fare dei bandi europei perciò ha bisogno di qualche informazione tecnica perciò riusciamo a coprire una bella area di ristrutturazione e poi invece esattamente questi sono i clienti i nostri lavori andiamo dall'appartamentino alla casa unifamiliare villa anzi ultimamente dico la verità sono molto attento sulle ristrutturazioni perché il mercato è questo e ci sono ristrutturazioni e ristrutturazioni il cliente non deve avere paura di chiedere che tecnologia c'è a Fano abbiamo fatto dei bei interventi non lo sa nessuno ma abbiamo fatto la prima palazzina geotermica a Sant'Orso funziona da 4 anni e non l'abbiamo pubblicizzata sempre perché il passaparola è una è una cosa molto forte perciò sono contento e abbiamo fatto altre case con la geotermia ma quello che voglio dire è che la geotermia non è quello che fa Air System Air System fa impianti termici a 360 gradi perciò sceglie quello che è meglio per il cliente perciò se per il cliente può essere una soluzione la geotermia propongo la geotermia ma non propongo solo una soluzione propongo almeno due o tre soluzioni perciò la geotermia è il nostro fiore all'occhiello il mio fatturato non è solo la geotermia è una mia arma segreta tu ce l'hai so farla la conosco molto bene per chi la vuole c'è se no conosciamo bene sono nato con le vecchie caldaie a gasolio quanto avevo 15-16 anni e negli ultimi anni sono arrivato a fare delle case praticamente a bolletta zero senza gas solo con pompe di calore trattamento dell'aria e vedo che sta funzionando e anche i centri commerciali che stiamo facendo riusciamo a inserire delle energie rinnovabili perciò spaziamo un po' su tanti campi un altro bel lavoretto che abbiamo fatto è il Consolato del Marocco Bologna e questo per Fano sono contento che i fanesi vengono a sapere che un'azienda di Fano è riuscita a vincere contro delle grandi aziende di Bologna perché il Consolato del Marocco è a Bologna e abbiamo rispettato i tempi in un anno abbiamo consegnato un palazzo da 3.500 metri suopaltando pochissimo tutto con le forze nostre e un'altra cosa che sono molto soddisfatto sono riuscito ad andare anche all'estero sono riuscito l'anno scorso sempre con i miei ragazzi in 25 giorni dal 1. dicembre alla vigilia di Natale del 2015 siamo andati in Qatar a Doha e abbiamo fatto una bella cioccolateria tutta progettazione nostra tutta progettazione italiana materiale tutto italiano e abbiamo consegnato un bel lavoro in un ambiente estremo perché la vogliono dei dati di progettazione molto molto tirati ecco quindi insomma spaziamo un po' però Air System è aperta a tutti non esiste il piccolo appartamento esiste il lavoro che dobbiamo investirci magari meno tempo per realizzarlo ma allo stesso tempo per ragionarci perciò è tutto sullo stesso livello ok senti quindi un bel made in Italy che l'avete portato là e anche materiale chilometro zero perché preferisco prendere vado praticamente provincia di Pesaro poi Marche e poi Italia su tutto il materiale che installo perché fai girare l'economia anche locale ci provo ci provo senti ma so che i clienti quando vengono da te insomma passano parecchio tempo nel tuo ufficio come mai perché perché per capire bene che impianto fare da un cliente bisogna capire i clienti come vive la casa se il cliente ha bambini se il cliente lavora fuori se va via lunedì e torna venerdì cosa gli piace più in una casa se gli piace fare magari docce molto lunghe bollenti oppure il condizionamento gli piace solo quanto magari fuori c'è un'affa e lo vuole accendere un giorno un giorno al mese oppure vuole sempre un comfort ambientale perciò il cliente viene da me per chiedermi delle cose ma io gli rispondo con tante domande gli faccio poi i fatti degli altri esattamente gli faccio una maria di domande stiamo insieme 3-4 ore dopo queste 3-4 ore io capisco chi ho davanti capisco le necessità del cliente e gli praticamente gli andrò a proporre almeno 2-3 soluzioni ma il cliente sceglierà io non sceglierò per il cliente cioè è il cliente che spero cioè quanto mi spiego spero di essermi spiegato bene cosicché il cliente possa decidere la soluzione migliore per lui e poi vi dico la verità il il privato bisogna che investa un po' di lavoro e un po' di tempo se vuole risparmiare non è che in due secondi si fa tutto se mi dedica del tempo arriveremo alla soluzione tecnica economica più vantaggiosa per lui e soprattutto non c'è una soluzione univoca cioè non c'è una cosa assolutamente lui ti prospetta due o tre cose poi dopo giustamente la mia forza è anche che riesco a coniugare rapporto prezzo qualità e tecnologia perché avendo fatto tutta la trafila perciò so benissimo ogni volta che parlo di tecnologia e vedo dove andrà installata riesco già a capire il prezzo e perciò riesco già il cliente mi dà un budget e riesco a capire se sto nel budget se lo supero perciò una cosa che il cliente invece dovrebbe insomma fare in tanti step con me riesce a avere un pacchettino completo è vero che dopo mi avvalgo di progettisti anche esterni studi di progettazione quando la cosa si fa seria è giusto prendere dei professionisti dedicati magari che per un pacchetto che insieme si elabora una soluzione quasi sartoriale perché esattamente l'aggettivo è perfetto sei il sarto della casa dell'ambiente va bene e spero di farlo per un'altra 30-40 anni gli anni ce li hai tutti perciò lo spero una soluzione sartoriale per il vostro ambiente per la vostra casa ma in questo momento cosa ti sta più a cuore se possiamo fare una allora oltre mia figlia Lisa che è nata quattro mesi fa e alla mia famiglia mi sta molto a cuore cercare di togliere le fonti fossili praticamente il metano e cercare di rendere il cliente un po' più forte a livello di costi fissi perciò a me piace molto la tecnologia delle pompe di calore anche perché le pompe di calore funzionano ovunque in qualsiasi con qualsiasi condizioni di temperatura in Germania le usano da 10 anni anche in Alt'Italia io 7 anni fa le ho sposate adesso fortunatamente anche le normative mi hanno dato ragione mi hanno dato ragione perché sul nuovo la caldaia da sola non regge più abbiamo bisogno anche le pompe di calore perciò quello che mi sta più a cuore è rendere un'abitazione praticamente io la chiamo bolletta zero ma non esiste la bolletta zero però non collegata al metano e praticamente completamente elettrica anche perché il cliente è molto più forte nel mettere in concorrenza i gestori ha meno costi fissi verso i gestori dello Stato e anche la manutenzione comincia a essere una manutenzione diversa meno rischi dentro un'abitazione è vero che le caldaie sono sicurissime io sono nato con le caldaie perciò non è che parlo male delle caldaie però sono ormai si possono cominciare a mettere da parte se uno fa una bella ristrutturazione o anche fa il nuovo anche se magari prossimamente quando ci ricontreremo posso spiegare qualcosa di un po' più dettagliato entriamo un po' più esattamente anche chi ha una caldaia un'impianta pavimento può fare tante cose può fare tante cose perciò sposo le pompe di calore da noi funzionano benissimo perché le temperature d'inverno non sono freddissime poi basta mettere una buona pompa di calore dormiamo sogni tranquilli io sono il primo a metterci la faccia perché vi dico dove sono e ci sarò per parecchio tempo sono sempre lì sono di fano e il problema non c'è un'altra tecnologia che mi piace molto è la ventilazione meccanica controllata perché è una tecnologia che permette di avere sempre l'aria trattata in casa sempre un'aria sana e avendo anche le finestre chiuse perciò è una tecnologia magari poco conosciuta ma quello che mi piace molto in questi periodi è che c'è il web e internet che mi aiuta io non ho paura del web e di internet anzi è una spalla è una spalla per me perché quando parlo di queste cose se non sono stato chiaro il cliente può entrare nel mare di internet e troverà qualcuno che mi dà contro ma insomma è più la gente che mi dà ragione vabbè poi viene da te ti fa la domanda esattamente non ho paura ma io ho letto che non c'è problema ti spiego e ti spiego perciò quello che mi sta a cuore è curare il cliente e il cliente non deve pensare che la cosa più semplice è la cosa migliore o la cosa più economica mettiamoci a sedere e ragioniamo e ragioniamo poi si può fare anche la cosa più semplice e più economica però bisogna arrivarci con un ragionamento non a priori però c'è questo che mi sta a cuore e i lavori un po' più grandi è logico li cerco anche perché per mantenere l'azienda ho bisogno di qualche lavoro però sono molto affezionato al privato perché bisogna io sono un privato io quanto esco dalla mia azienda sono un privato compro una finestra faccio un pavimento sono un privato voglio essere tutelato questo è un po' quello che senti abbiamo parlato di così accennato senza senza entrare troppo nello specifico perché chiaramente dopo ci vorrebbe una puntata perché ti stimolano così tanto queste due tecnologie che forse sono le più attuali in campo termico come mai le hai scelte perché perché tecnicamente avendole capite mi piacciono le tratti le tratti perciò non è solo una cosa commerciale ma avendole capite tecnicamente e avendole provate su abitazioni anche un po' borderline dove magari io dicevo guardate che forse sarebbe un po' tirata ma il cliente è molto più convinto di me insieme siamo arrivati alla conclusione questo è un pochino e anche per il risparmio cioè una pompa di calore insomma non lo dico io lo dicono tutti è anche un risparmio sulla bolletta poi un impiantino fotovoltaico io non tanto lo conosco molto bene ma il fotovoltaico lo fa più la parte elettrica è un altro però un impiantino fotovoltaico e fra un po' arriveranno anche gli accumuli insomma cominciamo a avere una casa autosufficiente ragioniamoci ragioniamo le case ben coibentate non c'è più il metano non ci sono più canne fumarie una pompa di calore fa caldo e freddo è una tecnologia non fa rumore insomma è una cosa molto molto non fa rumore non fa rumore poi non fa rumore esatto è da vedere dove uno la posiziona che tipo di macchina compra però è un'ottima tecnologia ripeto conoscendo bene il meccanismo e la parte tecnica so che funzionano e sono molto molto affidabili è una tecnologia costosa è una tecnologia che in questo momento ha un costosa allora grazie al 65% grazie alla tariffa incentivante di uno che è una tariffa dedicata per le pompe di calore per l'energia elettrica il costo si ammortizza molto velocemente ecco è logico il costo iniziale può sembrare più costoso ma bisogna paragonarla esattamente con tante voci cioè una caldaia ad esempio ha la canna a fumare la linea del gas il gabbiotto strutturale in cemento armato per metterci il contatore lo scavo magari per passare la linea poi abbiamo bisogno del condizionamento magari degli split con il passaggio dei cavi bisogna vedere un pochino bisogna valutare bisogna valutare bene quello che dico ma non d'opera anche ma non d'opera quello che dico è che gli impianti a pavimento vent'anni fa dicevano tutti ah ma non c'è bisogno e adesso ormai è un must le pompe di calore io non vendo pompe di calore attenzione io vendo un impianto termico non ho un'azienda di pompe di calore però lo utilizzi per i tuoi impianti utilizzo e sono sono molto fiducioso che sarà che è il futuro non sarà quindi il futuro è adesso il futuro è adesso per le pompe di calore ma penso che molte persone che mi stanno ascoltando o l'avranno già in casa o già si sono informati di di questa tecnologia ecco perché mi fido molto delle pompe di calore delle pompe di calore allora è una scelta strategica aziendale che speriamo ti dia ragione ma già soddisfazione te la sta te la sta dando senti nel tuo insomma insomma nella tua esperienza nel tuo escursus lavorativo hai detto sei partito dalla caldaia no? quindi da da quella che abbiamo tutti noi a gasolio a gasolio addirittura quindi proprio quella centralizzata magari esattamente l'unica condominiale quindi quella che fino ad arrivare alla tecnologia più 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 elevata come si stanno evolvendo in chiusura di puntata un po' le nostre abitazioni tu che hai visto tutto il panorama si stanno evolvendo che praticamente con la potenza consumata da un phon per assiugare i capelli noi ci riscaldiamo ci condizioniamo ci facciamo calda sanitaria in un'abitazione veramente ho reso fantastico ho reso l'idea perciò massima coibentazione massima costruzione sugli infissi impianti molto performanti perciò un'abitazione che consuma poco pompe di calore performanti bassi consumi questo è il nostro il nostro futuro benissimo quindi pensiamo che di carne al fuoco ce ne sia tanta rincontreremo ancora sicuramente Diego per spiegarci un po' più nel dettaglio le tecnologie di cui abbiamo accennato prima però sicuramente una cosa un'idea ce la siamo fatta che come si dice insomma sa di che cosa sta parlando perlomeno tu dici no no ma sicuramente quindi ti ringraziamo per averci fatto questa presentazione così di questa bella realtà affanese di cui tu sei orgogliosamente titolare e quindi insomma speriamo di ritrovarci quanto prima per scendere un po' più nel dettaglio e quindi insomma attualmente stai lavorando su Fano sei impegnato? si stiamo lavorando stiamo facendo l'ospedale di Urbino il reparto maternità e lungo degenza perciò un lavoro molto complesso lo stiamo consegnando adesso stiamo facendo due ristrutturazioni a Fano su un attico in centro e un altro appartamento nella zona vicino e stiamo facendo il cono a Diosimo e qui insomma per adesso vediamo il 2017 per adesso stiamo bene siete a posto va bene grazie Diego Zeppa per essere stato qui insieme a noi i nostri divani e quindi questo è insomma avete capito il futuro della insomma di quello che è l'habitat casalingo in ambito termico come ci stiamo evolvendo siamo partiti dalle caldaie a nafta per arrivare insomma insomma alle pompe di calore bene grazie per essere stati con noi in questa puntata di Dopocena alle prossime puntate grazie ciao